Dopo anni di restringimento della già stretta strada in via Serra Varricale in Contrada Santa Barbara finalmente la soluzione. L'intera zona è stata per tantissimo tempo paralizzata da uno smuttamento che ha provocato la frana di un costone che per evitare il peggio, cioè l'isolamento di molti abitanti della zona, fu puntellata per qualche metro. La messa in sicurezza è stata più volte richiesta dagli automobilisti in transito in quella zona e dalle famiglie residenti, ma per vari motivi la strada nel tratto specifico non ha mai subito un consistente lavoro di ripristino, fino a quando il Comune ha aperto una gara vinta da una dittarianese a cui sono stati affidati i lavori, per un finanziamento comunale pari a circa 25 milioni di euro. La frana era diventata anche pericolosa ogni qualvolta pioveva, il muro di contenimento riversava in strada detriti di ogni genere e la palificazione della luce si era inclinata a tal punto che si rischiava ogni volta il peggio. Ora gli abitanti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.